oh si cazzo non si discute ci riposizioniamo vicino al punto di atterraggio vi rendete conto che posso sentirvi vero invio tutte le unità alla vostra posizione non sbordate di sangue il mio nuovo corpo no quanto dura sta visione veramente ti lascio più muovo di storia andare non mica capito quindi c'è qua non è altro ok ricarichiamo chi deve ricaricare richiesta di movimento confermata ok c'è chi non te la vivo for fortuna ok via andiamo lo spark avanti lo sapete putti occhi da libellula nulla qualsiasi chiedi via via Finalmente! Scusate! Cazzo. Sei di corazza, ho tanta di vita. Ma siamo seri? Ovviamente nessuna guardia andrà a segno praticamente. Vabbè dai, illegale. Sei. Ok. Facciamo un po' di Shredder. Via via via. Ok. Forse non sarà così terribile. Abbiamo granate, lo Shredder, il potere di combattimento. Ok. Vediamo. Ora ti è arrivato. Guarda quello. Due di danno, non è abbastanza ovviamente. Il target è minimo dappertutto. Vado, vado, vado! Non andiamo su tetti, robe varie, che sennò ci butta giù, ma ci fa ancora più danno e non mi va. Con te abbiamo la possibilità di disattivarlo? Ma dov'è Shen? Shen, per favore, disattivalo. ... Speriamo, il 0.75% buono. No! Desso una settimana. Ma dovresti farlo... mmm più le difesi a questo infame Tito Spark, distruggete il sectopode, se volete tornare a casa. Sì, ma sti guzzi, cioè... Mamma mia. Io sono un nemico che... Cioè, proprio il design di sto robot a me fa schifo. Diagnostica e valutazione danni. Ok. Questo nucleo di memoria è così... Stretto! Persino rispetto alla torre. Quando neutralizzarò Stag, completerò il trasferimento e scoprirò la vera libertà. Ok. Che cosa stiamo a fare? Studitore impulsi. Proviamo a stordirlo? Uh! Vabbè, abbiamo diminuito la difesa. Vediamo che potremmo riprovare ad aggerarlo, no? Andiamo in override. Proviamo a distruggere quel mech. Chiaramente no. Riproviamoci. Ok. Ok. E poi ricarichiamo. Attuale combattimento in scene è infinito. Buono sapersi. Cerchiamo di stare copertura piena e sennò... Da 10 a 11 danni. Va bene. Lo prendiamo. 6. Non è abbastanza. Oddio, forse ho fatto di più. Non l'ho ben capito. Ah, ecco. 10. Buono. Va bene. 10 a 11 danni. Fa 6. Sembrava strano. Finch'io non uso esplosivi e cose simili. Mi sta anche bene. Cerchiamo di distruggire ancora di più l'armatura. Corazza. Come potete chiamarla non lo so. Ok. Ancora ce ne vuole di strada qui. Potremmo anche andare in soppressione. Sì. Andiamo in soppressione così. Teniamo di più sotto controllo. Non abbiamo più protocollo di combattimento con te. Forse sfortunatamente. Non c'è problema. Spariamo. Uno di danno. Che schifo, mamma mia. Ma inizia, non mi aspettavo un sectopode. Sectopode. Non sectopode cos'è. Ma tu lo sapete fare? Niente. È un bug, tipo. Non si capisce bene così. Dove è saltato sto mech? Forse. Non si capisce bene così. Da dove stanno uscendo fuori? Cioè... Non c'è il vuoto là sotto, bro. Un occhio. Ok. Beh, ho diminuito di molto la percentuale che ci colpisca. Se non è percento sullo sparco. Va bene. Sei beh. Non ha la mira di un sectopode normale, diciamo. Ah, qua c'è un cerchino. Non c'è un cerchino. Non c'è un cerchino. Non c'è un cerchino. Non c'è un cerchino. Forse avrei dovuto iniziare a sporcarmi le mani prima. Mi sto divertendo. Ehm... Cos'è questo? Scarica condensatore. Scarica completa! Sì, è una vera! Forse anche dentro dovrei spazzarlo, non mi ricordo... Madonna! Se stai più vicino a quello avremmo fatto danni assurdi... Vabbè, non importa... Va bene uguale... Mh... Facciamo questo! Bene! Quanti ho avuto più difficoltà adesso? Quanto è ora? Cos'è stata fatta! Non ti aiuti niente... Vieni! Metà copertura non mi piace, però ha lo scudo, pieno di vita... No, 8%! In modo di soppressione, effettivamente. Oh, mica, si sta avvicinando a noi. Non è piacevole la cosa. Ah, cazzo! Uh, mamma mia! Sono sotto il fuoco! Sì, sono in movimento! Fortunatamente non ho fatto piccola mira. Sì, adesso, zitto. Ok, suggeriamo l'armatura. Completamente. Ora i danni dovrebbero essere un po' più decenti. Speriamo, cioè... Sennò non so più che inventarmi. Facciamo appuntamento rapido. Sì, tutti quanti li ascono a spallo. Compercettuali... Un po' più alte. Facciamo sto critico. Dai, dai. Bene, 12... Mamma mia, 12 abbiamo battuto. Ah, tu non puoi fare nulla questo turno. Giusto. qui sono andata. Vabbè. Ehm... Ah... Entendiamo! Tu. Qui. E, soppressione. Un po' più forte. Come fai a mancare una cosa così grande? Ah, non già. Ok. Ok. Gli anziani stanno devastando il vostro pianeta e voi siete qui, a sfrecare tempo prezioso e a risorsa a combattere la reliquia del vostro patetico passato. Vi meritate il destino che vi è stato promesso. Cuidiamo lo struttore impulsi. Bene. Ehm, ho paura di lasciare questi qua, però. Ok. Il destino è morto. Alla via! E' certo! Andiamo sul Sektopode. Sektopode! Sì, ma... Stacento e non riesco proprio a metterlo. Sektopode, ecco. Sektopode. Ecco. Come fai a mancarlo? Non lo capirò mai. Ehm. Lo disattiviamo. Vediamo se riusciamo. Ok, bene. Ok, perfetto. Lo mostrarebbe stato sicuro. Non è che stesse facendo vissà cosa, eh. Però possiamo concentrare un po' più di gente sul Prime. Ecco, qui. Evitare di avere i feriti. Prima di finire la missione. Do cazzo l'hai? Vabbè. E' andato proprio a 10 km. Questo da vicino attiva lato di istruzione. Sì, è un po' più difficile. Spesso mi chiedo come siano stati gli ultimi momenti del padre. La devosione che avrà provato vedendo la caduta del suo prezioso progetto XCOM. Il dolore che ha provato quando ha capito le vere intenzioni degli anziani. Due di vita. Badalini. Stiamo insieme! Perfetto! Dormi Tu ricarichi Allo Spark l'onore Di distruggere Sektopoder Sistemi difensivi disattivati In tutta la struttura Ben fatto, Shen Minchia Ce l'abbiamo fatta Porca Eva 39 turni Madonna mia Mamma mia Due a tre ore quella missione Tu che cacchio sei? Mitragliere Colpo a sicciare Che non infligge danni Non infligge pochi Ma obbliga il bersaglio A spostarsi Cortina di ferro Che infligge La metà dei danni Ma diciamo Mobilità del bersaglio Per i prossimi due turni Mi piace Se potessi Ma che cazzo sta succedendo? Perché non me lo fa? Vabbè Andiamo avanti Facciamo dopo Tu sei assaltatore Cerca di La ricarica di fuoco In corsa di dotte di un turno Cinque proprietà Io ti critico Per ogni nemico che vedi Aggressione mi piace Abbiamo lo spark Comandante Abbiamo lo spark Appunto E credo che con la nostra tecnologia Potremo costruire altri rinforzi Partendo dal suo design Posso lavorarci nel reparto sperimentale Appena mi dai il via Ah no Potremmo farlo allora Vabbè Quanto parte potremmo avere più Mac Non so quanto utili siano Direi che non so Da sta forza Ma vedremo Comunque Spero vi siano piaciuti Provento di vedere tutti gli episodi Questa missione Ma sì Alla prossima